Retroscena a Roma, il post di Pellegrini e sue parole da capitano e compagni. Lorenzo Pellegrini non è tipo da proclami. Anzi, preferisce i fatti alle parole e spesso per questo non sempre viene compreso da chi lo vorrebbe più esplicito. Stavolta, però, dopo la sconfitta contro l'Inter all'Olimpico Pellegrini ha fatto un'eccezione. Il motivo? Subito dopo il discorso di Mourinho e i giocatori in mezzo a campo, Lorenzo nello spogliatoio ha parlato con i compagni e ha quindi deciso, oggi, di fare un post che gli altri, a partire da Di Bala, hanno ricondiviso. Pellegrini e il post sulla Roma Lorenzo ha scritto su Instagram, nel bene e nel male sempre insieme fino all'ultimo secondo senza mai mollare di un centimetro. Voi con noi e noi con voi. Tra i tanti like, dai tifosi e i compagni di squadra. Ne spicca uno di una persona che capisce benissimo lo stato d'animo di Pellegrini, Daniela De Rossi, virgola.